Ben ritrovati amici, come state? Oggi giornata intensa, sono successe tante cose, vi ricordo come sempre di iscrivervi qui, siamo quasi 10.000 iscritti, lasciate un bel like, commentate numerosi, un rapido aggiornamento, io voglio far vedere nel giorno del 123esimo compleanno del Milan una delle magliette più iconiche, quella qui di Savicevic che mi è stata inviata, qui sotto trovate il sito dove con il codice AL avete anche delle promozioni, c'è la possibilità di avere anche con più acquisti una maglia gratuita, qui sotto appunto ve lo metto con tante possibilità, giorno del 123esimo compleanno della C Milan, è stata però una giornata triste perché ha mancato colui che è stato anche mister del Milan Sinisami Ailovic, al quale rinnoviamo un ulteriore pensiero prima di andare a letto stasera, il Milan ha giocato e ha anche fatto una partita appunto persa 4-1 con il Liverpool, con tante tante assenze, gol di Sanemakers, tra i migliori con Ben Nasser, qualche spunto di Adli, in generale secondo me anche delle buone indicazioni da Mirante che ha parato anche un paio di rigori e personalmente ha dato più sicurezza rispetto a Tataru Sano. Chiudo così la giornata in cui è successo purtroppo di tutto, la notizia più brutta è la scomparsa di Sinisami Ailovic, cogliamo l'occasione per fare gli auguri al Milan nel giorno del 123esimo compleanno, insomma sono tanti anni, c'è tanta storia, vi ricordo appunto la promozione con il logo L, non il logo L, sul logo L iscrivetevi con il codice L, la maglia di Dejan Savicevic, in questo caso grazie perché mi è stata mandata qui sotto, trovate tutte le coordinate, un abbraccio, buonanotte, ciao a tutti e auguri al Milan.